E oggi ragazzi una prova un pochino diversa dal solito, ovvero invece di una replica ne proveremo due. E prima di partire ringrazio Nicolas degli IGT Imola, Imola gioco tattico, che mi ha consegnato due repliche da revisionare e da fare qualche miglioria. Ora ve le voglio mostrare e stiamo parlando di due scocche VFC praticamente, dove al suo interno era già stato fatto un custom e anche bene, ma siamo andati diciamo così a fare quello che era una revisione totale con delle migliorie. Purtroppo in una delle due mi sono trovato una molla spestata in tre parti perché c'era un guidamolla non cuscinettato, quindi normale, dentro all'interno ci sono due gearbox G&G e di conseguenza la molla, ahimè, nella sua torsione si è spestata in tre punti. Quindi sono andato ad applicare appunto queste piccole accortezze, facendo una buona revisione, portandole a potenza, settando qualche piccolo setting nella centralina Titan, avendo entrambe il Titan e devo dire che si è migliorata notevolmente la silenziosità meccanica di queste due repliche. Ma ora godetevi la prova di tiro, prima proveremo questo MK18 e poi questo MK18 Mod 0. Abbiamo all'incirca 25 pallini al secondo e come avete sentito una silenziosità veramente fantastica. E ora proviamo il Mod 0. Come vi dicevo, seconda prova MK18 SOP Mod 0 e abbiamo anche qui un motore 18K della G&G e sentiamo silenziosità del colpo singolo e silenziosità meccanica. fantastici, veramente fantastici. Sono molto contento del lavoro che è stato fatto e con alcune piccole accortezze si è arrivati ad avere veramente delle ottime performance in entrambi le repliche. Bene ragazzi, come sempre vi continuo a invitare sul mio canale Instagram, Facebook, YouTube e se avete bisogno di qualche contatto, qualche info per le vostre repliche non dovete fare altro che contattarmi al numero che vedete qui sullo schermo e come sempre ci vediamo al prossimo custom. Ciao!